Torno con grande entusiasmo, grande felicità per essere qui a Bologna e soprattutto con grande voglia di rimettermi in gioco e di fare di tutto per questa squadra. Ho detto subito di sì perché prima di tutto è una società importantissima, un club che ha storia, un club che ha vinto tanto in Italia e un club dove c'è una forte società, dove ci sono grandi ambizioni. L'esperienza di Inghilterra è stata un'esperienza bellissima, metti dentro tante cose nel tuo bagaglio professionale, perché il calcio è completamente diverso e ci sono tante altre cose dove puoi migliorare. Gli stagi soprattutto sono bellissimi, pieni, la gente si comporta in modo straordinario. Diciamo che il modello inglese è un esempio per tutti. Cose negative è il tempo, il clima dove veramente è difficile adattarsi, però non ci sono grosse cose negative per un calciatore. Sto bene ora, ho fatto tutta la preparazione, ho fatto tutte le amichevoli, quindi sicuramente avrò bisogno di giocare, quello sicuro, però sono arrivato qua con grande entusiasmo e voglia di fare, quindi sono molto carico. Preferisco sicuramente giocare esterno e mezz'ala, quelli due sono i ruoli che ho fatto negli ultimi quattro anni, quindi sono a disposizione di citerare al mister dove farmi giocare. Bologna ha attraversato degli anni difficili, soprattutto all'inizio dell'anno scorso penso, almeno da quello che leggevo così. Poi c'è stato l'intervento del Presidente, che è stato un intervento molto importante e ora il Bologna è una società, penso in Italia, una delle società più importanti, più solide dal punto di vista finanziario. Quindi anche il mercato che ha fatto lo dimostra, perché ha investito tanto, è una società che ha messo le basi per il futuro. Ma la fame ce n'è tanta, sono venuto qua apposta, quindi mi sono voluto rimettere in gioco e ho tanta voglia di dimostrare, e prendi tutto a me stesso, poi anche ai tifosi e alla società che hanno fatto questo investimento, e ci ho grande voglia. Per ritornare a Giaccherigno ci faremo di tutto, insomma, sicuramente ho bisogno di giocare, ho bisogno di allenarmi, di lavorare, e vediamo.